Sono sei i pittori autori di drappelloni che espongono nella quarta edizione di Cavalli d'Autore la mostra che porta alla ribalta il cavallo protagonista del palio tra gli artisti anche Vincenzo Bocciarelli, attore e pittore senese Daniele Magrini Siamo all'interno della mostra Cavalli d'Autore una mostra davvero suggestiva perché poi il cavallo lo sappiamo nel cuore di ognuno di noi nel cuore di ogni senese la formula mette insieme artisti senesi con artisti di fama nazionale e internazionale la curatrice è Elena Conti che ha anche questa splendida opera in mostra Elena raccontaci un po' La scommessa su questa mostra è che è una mostra sui generis perché unisce nomi famosissimi ma veramente famosi come Tano Pisano che è famoso nel mondo o il maestro di Iullo nomi famosi di Siena, autori di drappelloni anche a persone che dipingono molto bene che magari hanno l'occasione per la prima volta di esporre in un posto iconico come il Santa Maria della Scala quindi quello che mi piace dire è una sorta di melting pot di artisti che si uniscono per celebrare il cavallo e Siena ha bisogno di dare questo spazio secondo me per far vedere che ama il cavallo profondamente Vincenzo Bocciarelli siamo abituati a vederla in altre vesti diciamo ma qui nelle vesti di artista è particolarmente ispirato da questo personaggio fondamentale del nostro palio che è il cavallo il cavallo, la sacralità del cavallo l'emblema e il senso di libertà che ho voluto raccontare in questa traccia là dove non arriva il cinema, il teatro quindi la capacità espressiva di quel momento arriva la pittura e viceversa questo è un po' un mio così iter creativo, artistico che soprattutto recentemente anche grazie a Elena Conti che già da questo è il terzo anno mi ha come dire invitato a partecipare a questa splendida collettiva